Tre donne scipate tra via Trasimeno e via Provenza. L'episodio avvenuto nella giornata di mercoledì attorno alle 17 si tratta di due diversi casi. Nel primo, nelle mira del malvivente, un'anziana, una signora di 80 anni, che è stata accerchiata da alcuni banditi che le hanno strappato la borsa contenente portafogli e documenti. In soccorso della donna sono intervenuti alcuni ragazzi che hanno assistito alla scena e hanno rincorso i malviventi, recuperando così la rifurtiva. Sono state poi aggredite altre due donne in via Provenza, sempre nel tentativo di sottrarle la borsa. Anche in questo caso le due donne sono state difese dai giovani. La rifurtiva è stata recuperata. Al momento sono in corso le indagini. Dunque via Provenza torna a far parlare di sé, una strada senza uscita, da tempo frequentata da tossicodipendenti. Ci eravamo di nuovo occupati, proprio in questi giorni, nella nostra trasmissione SOS Arezzo TV. Questa è una zona purtroppo dove i tossicodipendenti lasciano siringhe, residui di ogni tipo e qui vediamo il solito consueto spettacolo. C'è stato qui anche il soprallogo del nuovo comandante della Polizia Municipale che probabilmente, ci auguriamo, prenderà provvedimenti che però come vedi ancora non sono stati presi. Qui c'è il solito residui di passaggio di tossicodipendenti. Pensate qui sicuramente, vedo che ci sono delle riabitazioni di famiglie, quindi di bambini qui, si inizia di prenderci qualcosa di importante come malattia. E poi vedi, è una strada chiusa, costeggia la ferrovia, ci buttano, hanno buttato giù anche questa transienne. Eh sì, ci torna comodo, così la sera vanno là tutto buio. Eh sì. Grazie. Grazie.